Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gameray! E qui è Frenchie Dreams! Benvenuti su Dragon Ball Xenoverse 2 per una nuova sfida in compagnia della mia ragazza. Mi raccomando, visitate il suo canale YouTube, ma vi ricordo che oggi faremo una sfida bella potente. Uomini contro donne. Uno sceglierà un combattente uomo, l'altro sceglierà un combattente donna, per andare a vedere quali saranno i personaggi più potenti. Ci andremo anche ovviamente ad alternare. Mi raccomando, fatevi sentire al massimo ragazzi, lasciate ora un mi piace, quanti like? 5.000! 5.000 pollicioni all'insù ragazzuoli, ora lasciateli adesso per nuove sfide in compagnia di Francesca e consigliateci qualche altra sfida da fare insieme. Prima di iniziare vi dico subito che Instant Gaming vi dà la possibilità di ricevere un gioco gratis. Se volete avere questa bella opportunità vi lascerò il link in descrizione, quello lì con scritto giochi gratis, e lì qualcuno di voi potrebbe essere molto molto fortunato. Il tutto non è organizzato da me, ma direttamente da Instant Gaming, e mi piace condividere questa cosa perché magari qualcuno di voi si becca il gioco. Qualunque gioco. Ora è arrivato il momento di sfidarci. Potrebbero capitarci anche dei personaggi moddati come quelli di AF. Recuperate assolutamente il nuovo episodio appena uscito, poiché, vi faccio vedere, abbiamo appena visto questo personaggio. Non aggiungo altro, guardate assolutamente l'episodio. E a breve continueremo anche il what if di Broly, che è sulla terra al posto di Goku. Cose incredibili impressionanti. Francesca non ha la minima idea di cosa io stessi dicendo, ma ora si va. Questa volta quindi niente personaggi casuali? Proviamo con i personaggi casuali. Con il casuale è un po' difficile perché dobbiamo sempre avere un maschio contro una donna. Sì, quindi proviamo. Io vado. Goku, Super Saiyan Blue. Con i vestiti lotti. A te non accadrà mai di trovare una donna. No, no. Non capiterà mai. Pan. Pan, pan adulto. Guarda che questa è forte e si trasforma anche in Super Saiyan di quinto livello. Vai così, sceglila. Vediamo che riusciamo a fare in maniera randomica. Andiamo sul pianeta da Mac e vediamo ragazzi, finalmente, mi distruggi. E nei commenti tutti con l'hashtag Team Francesca. Ah, ragazzi, ti fate per lei. Ragazzi, ci sta questa volta che ti fiate per lei. Posso comprenderlo, ma vedremo una vera sfida. Oh, ma guarda Goku come secco. Come vi stavo dicendo, vedremo una vera sfida tra uomini e donne. Ci è venuta in mente questa bella sfida. Ovviamente non ci sono fazioni, è solo per divertirci. Però, come notate, gli uomini subito danno mazzate pesanti. Sì, perché io mi stavo caricando e tu mi hai... Ma veramente? Sì, stavo facendo il maximum charge. Il maximum charge. Oh, guarda che qua se pronunci male, nei commenti si scatenano, eh. Non sai quante volte per Dragon Ball After The Future dicono, Joseph lo pronunci male, che inglese brutto. E vabbè, ragazzi. Adesso ti distruggi. Ci sarà modo di pronunciarlo meglio. Guarda che battaglia. E vai così. Warp! Kamehameha! Beccata in pieno. Cos'è? Si toglie... No, ragazzi. Si è tolta le cuffie. Ma davvero? Ti devi concentrare, poi, tra l'altro. Guarda che qua li prendi, eh, gli schiaffi. Oh, oh. Stamina break. Oh, due stamina break di fila. Guarda, te lo dico. Fatti la suprema. Falla ora. Eh, no. Niente da fa'. Ma hai preso comunque. Te la stai giocando bene. Devo ammetterlo. Ma, d'altra parte, però, avevi modo di fare una suprema. Sì, e mi ero incastrata con i tasti che non mi ricordavo che tasto dovessi prendere. Rivato io, va. Super Kamehameha! No! E ora devi fare la suprema. Parati! Mi sono parato? Sì. Mi sono parato in pieno. Mi è sceso il vigore, però, perché quando ti pari, questo è quello che succede. Va bene così, va bene così. Tocca a me. Sledgehammer! No! Goku, e fammi sto Sledgehammer. Alle spalle, va bene. Uuuuh! Bam! Vigore distrutto e tocca a me. Maximum change, mia cara Francesca. Adesso mi dispiace, ma te la vedrai. Molto brutta. Ci provo a farti io lo stamina break. Boom! Tra l'altro, non ce n'era nemmeno bisogno. Vado ora, vado ora. Tocca a me. Teletrasporto. Mo' sono messo male, eh. Perché non posso teletrasportarmi. Battaglia. Vai così. Prova a fare le supreme. Perché non le fai? Perché non le fai? Vado! Parata. Molto bene. No, vigore a terra. Vigore a terra, no. Guarda, se te la giochi bene qua hai vinto. Guarda, giocatela bene. Non mi ricordo. Qual è il tasso per avvicinarmi a te di corsa? È X e quadrato insieme. Premiamoli due volte. Sono morto! Sono morto! No, vabbè. Oh, guarda lei com'è simpatica col vestiario. Vabbè, a parte questi piccoli dettagli, l'hai vinta questa, ragazzi, ma solo perché le ho consigliato di darsi da fare. Ma te l'hai vinto? Vai la suprema. E poi comunque non l'ho fatta, quindi... Va bene. Allora, adesso vediamo. Allora, stavolta vediamo se posso scegliere. Io ho una donna, ammesso che capiti... Videl! Oh, Videl! Quella... Oh, preferisco Kayle. No, no, è riuscita prima Videl. Va bene. Allora ritorniamo su Videl che purtroppo è passato avanti. Eccola. Aveva l'altro vestito. Qual è? No. Forse il secondo... È questo qui. Sì, era questo. Mamma mia, ragazzi, qua faccio subito una brutta fine. Vediamo, tu dovresti scegliere un maschio ed è un androide numero 13. È il primo che... Però è un androide, ma comunque è un uomo. Eh, sì. Quindi, West City, robine! Ragazzi, prima battaglia vinta da Francesca, eh? Questa volta, quindi, abbiamo deciso di cambiare un po' l'approccio, scegliendo personaggi, alternandoli. Una volta io un maschio, una volta lei il maschio, e poi con le donne è stessa cosa. Altrimenti poi siamo troppo di parte, mettiamola così. Con Videl hai vittoria facilissima. Oh! Non ricordavo che avesse ste combo così fighe lui. Teletrasporto. Molto bene. Adesso tocca a me, però. Devo stare molto attento. Via! Ma perché lei non... Oh! Ragazzi, ma Videl non ce l'ha la cosa che si gira per colpire l'avversario? Dai, dai, non ti puoi teletrasportare. Benissimo così. Vai! No, Videl! Ma che mi combini? È dura, ragazzi. Videl è troppo debole. Troppo, troppo, troppo debole. Justice Combination! Videl, ma che mi stia a fare? No, debolissima. Bam! Cioè ti fai fare uno stamina break da Videl. No, è perché già non avevo il vigore, quindi già non potevo andare da nessuna parte. Ah, è vero, forse già non l'avevi. Già non ce l'avevo. Energy Shot, però devo provare a fare la Suprema. C'ha l'Energy Charge. C'è lentissima. Guarda qua, Francesca, devo dire la verità, si è avvantaggiata in una maniera assurda. Pariamola, parla... Parla... No! Ma hai visto che ha fatto la parata dando le spalle? Sì, ma già eri di spalle quando hai iniziato a pararla. Eh, e il bello è che io stavo guardando a te per vedere se già stavi mandando la Suprema. Quello è il problema. Via, via, via. Vai adesso, Justice! No! Devo stare vicino per farla questa. Sì. E non lo ero. Non lo ero per nulla. Videl, te le trasportati, mannaggia! Ripigliati! Vai così, Energy Shot! Questa devo provare a vincerla. Devo provare a vincerla per le donne proprio, questa prova a vincerla, va! Ah, me ne esco così, capito? Adesso sembro un a favore che... Vai, vai! Parati, parati! Questa volta sono parato! Questa volta sono parato! Vigore che non resiste! Mamma mia! No, è sorfinito! Non ci voglio credere! Non ci voglio credere! Il vigore che non torna! Vai con X è quadrato! Eh, così, esatto! Però ormai è andata così! Ora però ci provo? Niente, non ci provo! Ragazzi, Francesca, due vittorie su due! Allora, guarda... Ma che è che ti atteggi così? Guardate come si atteggia! Vabbè, adesso basta! Ritornano a me gli uomini! Quindi si va così! E ottengo Ub! Che... Ok! Non è il top, eh! Vediamo, dovresti trovare una donna? Nel roster non ce ne sono tantissime, purtroppo... Vediamo... C'era anche Nabana lì che... È davvero una donniciola... C-18! C-18, ok! Ci può stare, ci sta! Andiamo a combattere noi al Cell Games Arena Questa volta scegliamo noi automaticamente Non sbattere l'anello sul tavolo Ed ora vediamo la battaglia Allora, Ub dovrebbe essere più potente di C-18? Non lo so! Forse sì, vediamo! Eh no, perché è una mod! Lui è una vera e propria mod! E si va! Si va subito! Stavo leggendo se aveva il massimo carico supremo Di cosa stai parlando? La carica massima, forse volevi dire! Mamma mia ragazzi, il carico massimo! Di cosa stai parlando? Come mi piacciono le combo di sto hub? Perché sono quelle di Vegeta praticamente Sì Boom! E guarda che sei finito, eh! Super Kamehameha! Dai, voglio provare Prima uno stamina break Tanto sei messa malissimo Tanto già non ce l'ho il vigore Boom! Eh no, è perché è proprio una cosa di combo Teletrasportati Niente da fare Tanto guardate... Oh! Parata perfetta! Super K-Explosion! Mamma mia Ragazzi Però siamo comunque due per me Sì, due a uno per te ragazzi Ma qua è giocata benissimo Giocata veramente, veramente Soltanto perché siamo persone già debole Ma che? Non incomincia a trovare Scusi, a bipazienza Giuseppe Imbroia Ma che Giuseppe Imbroia? Ma che? Guarda, fino ad ora sei stata tu Adesso i commenti inizieranno a scrivere Mamma mia la tua ragazza Di nuovo Videl! No, vabbè Di nuovo no Fammi trovare un'altra ragazza Che non sia Videl A bipazienza Adesso nei momenti scriveranno Che sono antipatica No, no, no Che mi atteggio No, ma che ragazzi Ma noi dovete sapere Che scherziamo assolutamente Recom Mamma mia Quanto era brutto Messo Vados Vados ragazzi Non mi piace per nulla Per le combo che ha Però È una donna Quindi La andiamo a scegliere Ok Ragazzi Ah, il gran sacerdote Sceglilo va È una bella mod E quindi adesso stiamo facendo Una scena di Dragon Ball Adesso Più o meno sì Più o meno sì Ragazzi Francesca oggi Proprio stanno La ribellione degli angeli La ribellione degli angeli L'avete vista? Io no Francesca no Quindi Oh, devi recuperare assolutamente Per niente Ma come per niente Ma non ti permettere Oh, ci siamo ragazzi Allora Allora In primo luogo Tu già sbagli l'approccio Appena inizia la partita Tu sei ferma Volevo vedere Devi andare verso l'avversario Devi Incominci ad ammazzare Poi dopo Guarda, guarda, guarda Ogni volta che ti fai teletrasporto Ma che è? No Fammi vedere un po' Quali sono le super Instance Everance Mamma mia ragazzi Francesca Mi sa che ha trovato Una di quelle mod Con potere infinito Guarda Ti fai teletrasporti Non consumi il vigore Oh, fantastico Perfetto Vabbè Quindi qua L'approccio deve essere Assolutamente Diverso Requiem Della distruzione Preso Ma tu lo sai Chi è il gran sacerdote? C'è il grado di parentela Con Vados È il padre È il padre Sì, 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 sì Lo sapete, no? È il padre degli angeli Eh sì, perché l'ho detto Un botto di volta In Dragon Ball Le migra Il dio demone No, quelle erano le altre puntate Di Dragon Ball Un po' più vecchiotte Sì, quelle sì Vai così Vai Stamina Break No, sto girato male Nooo, figlia mia Allora, ragazzi Mamma mia Francesca un po' Cosa c'è c'è Come partite Siamo 3 a 2 per te Possiamo quindi dire Forse che per questa volta Le donne sono più potenti Degli uomini Quindi non c'è nulla di male Assolutamente a dirlo Eh, però ci rifaremo Ci rifaremo magari In uno dei prossimi video Consigliateci insieme Delle nuove sfide da fare Perché vorremmo fare Diversi esperimenti Qui su Xenoverse 2 Anche facendo scontrare le aure Cose che abbiamo già visto in passato Ma con delle nuove mosse supreme Però accettiamo tutti I vostri consigli Mi raccomando, eh Passate sul canale Di Francesca Che domenica Questo signorino Ha fatto il suo primissimo slime Da solo C'è da dirlo Trovate un video In mia compagnia Sul suo canale Quindi passate assolutamente Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi ora Al mio canale YouTube Cliccando qui Da qualche parte a schermo Recuperate altri video Che sono usciti di recente E nel corso di questa settimana Arriverà tanta bella roba Quindi alla prossima Ciao